Ripropongo le immagini che ho raccolto questa mattina lunedì 22 maggio 2012 in giro per Locate, a cominciare dal parco di via Moro Pellico Bellini dove si può constatare fisicamente la riduzione al marciuscimento di un albero causato proprio dalla carente manutenzione. L'intervento di sicurezza ha dovuto necessariamente le due persone, una con l'autoscala e l'altra che doveva badare a che nessuno transitasse sotto, le due persone che sono intervenute hanno poi lasciato le situazioni in questo modo ed è ben visibile come sono ridotti gli alberi. Grazie anche alla scarsa manutenzione. Nell'insieme di queste immagini, le ho raccolte questa mattina sulle strade e nei parchi di cittadini di Locate, ho potuto notare anche che a Locate si usa come battistrada per il camion della inizia delle strade un'automobile con sui tre ausuliari che sono stati assunti per la monitorazione delle soste vietate, disti orari eccetera eccetera. Trovo subito perché in primavera si potrebbe anche utilizzare la bicicletta e non per forza di cose accompagnare il camion delle pulizie in automobile. Questa immagine di questa casetta dei bambini del parco di via Moro, Bellini e Pellico si presenta in questo modo che adesso è ancora poco, alcuni genitori mi hanno accompagnato e mi hanno chiesto di poter evidenziare. Si trova di tutto nell'arco della mattinata a volte e lascio immaginare cose che non dovrebbero avere nulla a che fare con i bambini e questo spazio adibito per loro per giocarci in maniera tranquilla ma possibilmente pulita e sicura. Questa immagine è già stata segnalata da un nostro concittadino anche nel gruppo di Facebook People from Locate Triunzi ed ecco cosa significa non intervenire con la manutenzione. Gli alberi per forza di cose rischiano poi di accasciarsi e necessariamente poi si giustifica l'intervento dell'abbattimento e via e si butta via qualche cosa che invece al nostro ambiente serve, serve conservarlo e mantenerlo. Qui voglio far notare subito sull'albero, sotto l'albero a sinistra una ciabatta, un interruttore che fa da collegamento ai vari cavi che se ne può vedere uno a sinistra e gli altri 4, 5, 6, 7 sulla destra che servono per il villaggio di accompagnamento a Luna Park in questi giorni a Locate. L'ultima immagine è un souvenir artistico postmoderno, minimalista, dadaista. Un saluto a tutti da Enzo Donofrio per LocateViva.it, 22 maggio 2012. Grazie.